Allora, come preannunciato, in questo video cerchiamo di risolvere insieme il tema d'esame Polizia, che è quello che abbiamo incontrato al primo appello, e cercherò di farvi insieme a voi una soluzione, soffermandomi anche su quelli che sono stati gli errori più frequenti che ho trovato nei vostri compiti, in modo da cercare di darvi già delle risposte riguardo a quello che sono stati i vostri errori, potendo confrontare ciò che avete fatto con le cose che racconteremo. Quindi non perdo tempo a leggere il testo, perché sicuramente lo conosciamo tutti molto bene, quindi passerei per ragione di tempo anche a tuffarmi nella soluzione di questo esercizio. Allora, facciamo un po' di spazio qui per scrivere il codice e iniziamo a scrivere la soluzione, prendiamo una dimensione di carattere un pochino più grande. Allora, in questo testo qui, mi tengo il testo a fianco, magari ci può servire di tanto in tanto per fare dei riferimenti, noi dovremmo innanzitutto andare a leggere un file di testo che è in un formato molto molto semplice. Il formato molto semplice è un testo libero essenzialmente organizzato per righe, all'interno di queste righe non c'è nessuna particolare struttura e il testo ci dice due cose molto interessanti. Uno è che nel file non ci sono parole composte che contengano le tre paroline chiave su cui gira il problema, quindi Bob, Arthur e Polizia, e quindi questa è un'informazione che possiamo sfruttare, non vedo perché non dobbiamo sfruttarla e l'altra informazione da qualche parte dice che, scritta più sopra, che dice che il testo contiene solamente caratteri minuscoli, contiene solo caratteri minuscoli spazi a capo, quindi non contiene né punteggiatura né apostrofi. Qui c'è un'altra informazione interessante, non ci sono caratteri punteggiatori che siano fastidio, non ci sono caratteri maiuscoli che possono creare ambiguità. Quindi teniamo a mente questo quando procediamo alla lettura del file. Allora, a questo punto magari ingrandiamo un attimo l'editorio in modo da poter iniziare prima a scrivere una funzione per leggere il file, la prima cosa che vogliamo fare. Allora, io lo leggerei nella forma più semplice possibile immaginabile, cioè la forma più semplice è quella di avere una lista di stringhe. Facciamo in modo che ogni riga del file corrisponda a una stringa e una lista con tanti elementi quante sono le righe del file e all'interno di ciascun elemento c'è semplicemente una stringa che contiene l'intera riga. Non vedo necessità di costruire strutture dati più complicate, ad esempio dividere le parole al loro interno, eccetera, eccetera, ma poi ne parliamo. Quindi io posso provare a definire una funzione che chiamo, ad esempio, leggi intercettazioni, da parente di nome al file e restituirà questa struttura dati che scrivo in un commento qua sopra. Costruiamo una lista di stringhe, una stringa, per ciascuna, una stringa, per ciascuna riga del file. Ok? Io in questa stringa posso anche contenere il barra N finale, non mi dà fastidio tenerlo, potrei toglierlo, ma poi mi devo rimetterlo quando stampo, diciamo che in prima battuta scriviamolo così, poi magari ci ragioniamo, ma compresa, comprensiva, comprensiva del barra N finale. Ok? Allora, se è così, allora la lettura di questo file diventa banale, perché basta che io apra il mio file, open, nome file, scusate, nome, scorsiamo la tastiera così riesco ad arrivare ai tasti giusti. In lettura, con l'encoding uguale UTF8, l'encoding l'avete dimenticato in tanti, è vero che durante l'esame la macchina è virtuale Linux, quindi ha già l'encoding di default, ma quando poi lo fate girare sotto Windows vi vengono fuori caratteri strani, no? Quindi ricordatevi sempre di metterla in coding, è noioso, ma è necessario. as f lo chiamiamo questo file, a questo punto dico, mi serve costruire una lista di stringhe, ciascuna stringa contiene un'intera riga, l'altra riga può contiene già anche il barra N finale, beh, vuol dire che il mio testo non è altro che f.readlines, che mi legge già tutte le righe del file proprio in una lista di stringhe, e quindi io non devo fare altro che fare un return di testo. Quindi la lettura del file, semplicemente, se scelgo questa struttura dati sarà semplicemente questa, se scelgo una struttura dati più complessa ovviamente mi sarà più complicato leggerla, dovrò poi valutare se è una struttura dati più complessa magari mi è necessaria o utile per l'algoritmo, altrimenti non vedo perché complicarla in questa fase qui. Ricordiamoci, qui stiamo pesantemente usando l'ipotesi, non ci sono parole composte che contengono Bob, Arcor o Polizia, altrimenti avrei fatto una scelta molto diversa di andare a separare le singole parole. Allora, cominciamo a testare questa parte del programma, quindi comincio a scriverci un primo main che chiami questa funzione, leggi intercettazione, passando il nome del file che si chiama intercettazione.txt, questo qui, e proviamo semplicemente a fare una print di prova per vedere se tutto funziona. Quindi facciamo un run di questo, ovviamente non ho chiamato la funzione main, quindi ho dimenticato un pezzo, rifaccio run, pronto, barra n, salve signorato come sta, barra n, molto bene ma chiamami Bob barra n, eccetera eccetera. Quindi abbiamo la lista contenente tutte le stringhe. Questo è il primo passo. Adesso, nel testo era richiesto di fare due operazioni, una, la prima delle quali, che poi avremmo anche potuto fare come seconda, indifferente, ma di creare il file censurato.txt in output. Quindi io posso pensare, il file censurato dovrà cancellare le righe secondo il criterio che ben conosciamo. Allora, possiamo definire un'altra funzione, censura testo, che riceve come argomento il testo da censurare e restituisce il testo censurato, quindi a un certo punto ci sarà un'istruzione return testo censurato, ok? Testo censurato ovviamente lo dobbiamo creare, lo dobbiamo calcolare, vediamo come, ok? Allora, anche qui possiamo pensare, lavoriamo su una lista di string come testo in ingresso, il testo censurato anch'esso potrà essere una lista di string in uscita, ok? Quindi testo censurato è una lista di string contenenti barra n al fondo, contenenti anche barra n al fondo, e contiene solamente, solo le righe che non sono state cancellate. Allora, io questa funzione la separo in due parti, la prima parte è trova le righe che devo cancellare, la seconda parte è costruisci il testo censurato senza le righe da cancellare, ok? Io separo queste due fasi, poi ci ragioniamo sugli errori frequenti che ho incontrato in questa parte di programma, però prima lo risolvo, diciamo così nel modo che mi pare più semplice, più immediato, e poi ci ragioniamo. Allora, trovo le righe che devo cancellare, innanzitutto le righe che devo cancellare sono ancorate sulle parole Bob o Arcor, le righe che devo cancellare sono le righe precedenti e successive a quella che contiene Bob o a quella che contiene Arcor. Quindi prima di tutto troviamo le righe che contengono Bob o Arcor, quindi scandiamoci il testo e all'interno di ciascuna linea di questo testo e vediamo se compare una di queste due parole, quindi noi iteriamo sul testo, potremmo dire for riga in testo e allora verifichiamo se all'interno di questa riga c'è la parola Bob oppure all'interno di questa riga c'è la parola Arcor, Ar, qui si scrive in modo strano, Arctor, in riga. Allora, se sì, allora questa riga è da cancellare, così come le due righe precedenti e anche le due righe successive. Come faccio a ricordarmi che queste righe sono da cancellare? Devo in qualche modo scrivermi da qualche parte che le righe sono da cancellare. Qui poi avete usato varie tattiche, alcuni si salvavano da qualche parte la riga, intesa come stringa, che funziona solo l'ipotesi aggiuntiva che non ci siano due righe uguali nel file, altrimenti sarebbe un problema nel riuscire a identificare una riga dato il suo contenuto. Se invece io la identificassi attraverso il suo indice è più facile perché non è ambiguo. Mi crea altri problemi che vediamo tra un attimo quando parliamo della cancellazione, identificarla per indice, ma mi sembra più semplice identificarla per indice. Quindi io penso di costruirmi una struttura dati che contenga gli indici delle righe che voglio cancellare. Io posso costruire un contenitore indici delle righe da cancellare e può essere, come molti anche di voi hanno fatto, può essere un contenitore di tipo set perché ovviamente noi troviamo Bob in un punto, troviamo Arcor in un altro punto e ogni volta che troviamo Bob dobbiamo cancellare un pacchetto di righe precedenti e successive. Quando troviamo Arcor in un altro pacchetto di righe, questi pacchetti di righe si possono sovrapporre. Allora se io li memorizzo in un set sono sicuro che i duplicati non ci sono, quindi non ho un rischio di contare due volte la stessa riga. Quindi io mi salvo, costruisco un set di numeri interi che contengono gli indici delle righe che voglio cancellare. E ogni volta che trovo Bob o trovo riga, devo, cosa devo fare? Aggiungi agli indici da cancellare, questa riga, le due precedenti e le due successive. Ovviamente per poter parlare della riga da cancellare, delle righe precedenti e delle righe successive, dovrò sapere qual è l'indice di questa riga. Quindi devo iterare il testo non per contenuto ma per indice. Quindi dovrò fare non for riga in testo ma for i in range di len di riga oppure, ancora meglio, indice virgola riga in enumerate di testo. E così all'interno del ciclo ho sia il contenuto della riga che mi serve per vedere se contiene Bob e sia l'indice della riga che mi serve per salvarlo. Quindi gli indici da cancellare saranno gli indici da i-2 a i-2. compresi. Allora questo è facile perché basterà creare con un range questi indici e aggiungerli all'insieme. Ci sono dei modi più sinteciti di farlo, ad esempio con una set comprehension, ma facciamo un semplicissimo ciclo che facciamo prima senza dover farci venire mal di testa con le comprehension. E quindi for cancellare, cancella in range, quanto deve andare la riga da cancellare, l'indice che voglio cancellare? Beh abbiamo detto da i-2 a i-2. Ovviamente se io definisco un range, se io voglio il valore di i-2, i-1, i, i più 1, i più 2, il range come sempre dovrà avere un valore di terminazione che è una unità in più per questo che qua devo mettere 3. E qua semplicemente aggiungerò gli indici da cancellare, aggiungo questo cancella che mi sto calcolando qua. Questo è il primo blocco. Alla fine di questo blocco, quindi ovunque ci sia un bog o ci sia un Arthur, io aggiungo a questo indice cancellare dei numeri che corrispondono all'indice della riga che contiene bob, le due prima, le due precedenti e le due successive. In questo range, tanto ci sto aggiungendo dei numeri insieme, in questo momento non mi interessa controllare se questo i-2 è valido oppure non è valido. Molti di voi hanno cominciato qua a fare una serie di casi particolari, ma possiamo pensarci dopo. Per ora mettiamo il valore. È chiaro che se i vale 0, i-2 che vale meno 2, oppure i-1 che vale meno 1, non sono vali, non sono indici validi di riga. Però per ora, per il momento non mi interessa, eventualmente lo ripulisco dopo. Attenzione che un'altra cosa che ho notato, che molti sono stati estremamente attenti al lato sinistro, quindi a non generare indici negativi, ma non sono stati così attenti al lato destro. E quindi, anche non scrivendolo con questo range, scrivendolo in altri modi, l'i-1 e i-2 l'hanno, diciamo così, usato anche senza controllare che i fosse minore del massimo meno 1 o del massimo meno 2. Questo, in parte, ci ha preso un inganno il fatto che Arthur e Bob fossero sulle prime righe del file. Però dobbiamo sempre pensare, e questo pensatelo sempre, che questo è un file. Ma se io prendo un altro file, con le righe completamente rimescolate, dove Bob è l'ultima parola, Arthur è la prima e polizia è a metà, il programma deve funzionare lo stesso. E questo è un problema che ho riscontrato in moltissimi programmi, che funzionavano solo se Bob e Arthur erano all'inizio e non nell'ultima riga, e non nella prima riga, ad esempio, in molti casi, non molti. come se uno fosse già sicuro che non contenesse nulla di importante, e invece, ovviamente, non lo posso dare per scontato. Quindi fate molta attenzione a non prendere l'esempio, a non estrapolare dell'esempio delle proprietà che in realtà il nostro problema non ha. Questo è fondamentale. Ok, ma al di là di tutto questo, io che cosa ho a questo punto? Guardiamolo in faccia. Print, indici cancellare. Questa return la commento perché se no mi dà errore. e quindi vediamo cosa stiamo facendo. Quindi proviamo a chiamare questa funzione che si chiama censura testo, quindi testo censurato uguale censura testo di testo, e questa qua non è finita questa funzione, chiaramente, ma siamo arrivati a metà e abbiamo la pretesa di sapere a questo punto quali sono le righe che vogliamo cancellare. Ecco, vediamo se è vero, facciamo un run, e il run mi dice 0, 1, 2, 3, 4, meno 1. Allora, chiaramente meno 1 non c'è, e allora 0 vuol dire che dobbiamo cancellare la riga pronto. La riga è pronta perché dobbiamo cancellare? Beh, perché è precedente a Arthur, ma anche perché è due righe sopra Bob. 1, beh, contiene Arthur, di sicuro la devo cancellare, 2, contiene Bob, di sicuro la riga 2 è questa, di sicuro la devo cancellare, e poi 3 e 4 che sono le righe successive a quella che contiene Bob. Il meno 1 sarebbero due righe prima quella di Arthur, che ovviamente questa riga non esiste, questo meno 1 è un fake, e non lo dobbiamo utilizzare o dovremmo ignorare. Ok? Allora, che vantaggio ho così? Ho la informazione di cosa devo cancellare senza aver ancora cancellato nulla. Ok? A questo punto io posso anziché lavorare per cancellazione, posso lavorare per costruzione. Cancellare un gruppo di elementi da una lista non è poi così sicuro, nel senso che può portare facilmente degli errori di programmazione, costruire una nuova invece è molto più facile. Io l'ho scritto qua, costruisci il testo censurato senza le righe da cancellare, non costruisci una copia del testo e poi cancella queste righe. E quindi il mio testo censurato, semplicemente, censurato, semplicemente sarà una bella lista vuota che provo a riempire con quella del testo purché gli indici non siano vietati. Quindi io vado a prendere ogni riga in, di nuovo, i virgola riga in enumerate di testo. Quindi riprendo di nuovo lo stesso ciclo di prima e a questo punto mi chiedo se i, l'indice, non è in quelli da cancellare, quindi se l'indice di questa riga non è vietato, allora lo posso aggiungere al testo censurato. Append, riga. Fine. ok? Quindi, questa ci dice qualunque indice di riga che sia diverso da quelli qui dentro corrisponderà a una riga che viene aggiunta al testo censurato. qui dentro il fatto che ci sia meno 1 non mi dà fastidio perché io non sto iterando su indici cancellare, non sto dicendo ok, trovo 0, cancello 0, trovo 1, cancello 1, trovo 2, cancello 2, trovo meno 1, ah, devo fare attenzione perché meno 1 non è valido. Io non vado a usare tutti i valori che ci sono in questo insieme. L'insieme lo uso semplicemente per dire questo indice c'è o non c'è in questo insieme. se questo insieme contiene tutte le righe da cancellare più dei numeri che non c'entrano niente, beh, questi numeri che non c'entrano niente non mi danno fastidio. Quindi questo è il modo più sintetico. E quindi se io commento questa print e provassi ad andare a vedere nel programma principale il testo censurato dovrei vedere sì, ma non trovo un pezzo quindi parte da qui in avanti. Ok? Sarà un problema, non credo, eccetera, eccetera. Però attenzione, ecco, se io a questo punto prendessi la riga di Bob la togliessi da qua e la mettessi al fondo come ultima il programma funziona lo stesso. Spero. Lo rieseguo, mi dice vedete che ci sono molte meno righe perché Arthur era qua e quindi ha cancellato quella prima e le due successive e Bob era in fondo e quindi ha cancellato l'ultima e le due precedenti. Ovviamente il trattato è molto diverso. Ok? Ho trovato diversi programmi in cui un'operazione di questo genere sarebbe stata fallimentare nel senso che il programma tipicamente va in crash perché cerca di cancellare la riga dopo l'ultima o cose di questo genere. Ok? Questo è nel modo più semplice. Adesso poi questa cosa qua la scriviamo su un file. Ecco, io vorrei soffermarmi però prima di andare avanti a scrivere sul file questo, diciamo, questo testo censurato a vedere un po' insieme mi sono preso una nota di quelli che potevano essere gli errori da commentare insieme. L'ho chiamato errori frequenti, non ho un valore oggettivo di frequenza ma gli errori che mi hanno saltato all'occhio. Tenete presente che io questo esercizio lo faccio bene perché ho il vantaggio di averne letti i 190 diversi di cui alcuni fatti bene e quindi in qualche modo ho avuto ci ho lavorato sopra diverse decine di ore su questo esercizio quindi mi viene facile adesso capisco che in un'ora non sempre si riesce a trovare la soluzione migliore ci mancherebbe ancora. Allora allora frequenti questa è la liga del file molti si sono dati da fare per dividere questa riga in parole che non è vietato anzi si fa così ma è inutile perché il testo ci dice che non ci sono questo servirebbe se ci fossero delle parole che contengono Bob e quindi se ci fosse scritto sbobinare non è la parola Bob ma la contiene e allora dovrei trattare in modo diverso. Il testo ci dice chiaramente questo non succede allora perché ti vai a complicare la vita per una cosa che chiaro che non è realistica ma ti stanno dicendo in questo caso specifico non preoccupartene e quindi era un lavoro aggiuntivo dire separare in parole non è sbagliato ma in questo caso fa perdere tempo in più fa perdere tempo anche il fatto che c'erano all'interno delle stringhe delle righe degli spazi consecutivi e quindi questi spazi consecutivi mi davano tante piccole stringhe vuote all'interno della lista generata dallo split che erano poi un rompimento di scatole dover trattare o cancellare oppure ricostruire eccetera e questa è una prima cosa un suggerimento se c'è un'ipotesi semplificativa nel testo approfittatene e approfittarne vuole anche dire non diciamo così comportarsi bovinamente scusate il termine applicando uno split perché negli esercizi l'abbiamo sempre applicato cioè ragioniamo di volta in volta seconda suggerimento è chi aveva diviso la riga in parole appunto non vietato anche se un pochino complicava poi per andare a vedere se c'era Bob nella parola mi son visto dei cicli di questo genere ok allora probabilmente sono quelli che arrivano dal mondo di linguaggi diciamo così un po' più di basso livello come il C ma se io ho una stringa costante e voglio sapere se questa stringa compare da qualche parte dentro una lista di string beh in è l'operatore che fa già esattamente questo lavoro oppure ci sarebbe index ci sarebbe find cioè ci sono molti modi di chiedere una lista senti tu contieni questo elemento ovviamente se conosco l'elemento esatto se conosci solamente una parte di questo elemento non c'è alternativa all'andare elemento per elemento con un ciclo for ma in questo caso era molto più semplice soprattutto qua è una if ho le istruzioni da fare mentre invece con un for mi devo tenere un flag in cui alla fine mi ricordo ma l'ho visto non l'ho visto eccetera eccetera e quindi si complica si complica di più la vita quindi in qualche modo cerchiamo di cercare di obbligarci di provare a ragionare a livello di contenitori se possiamo con le funzioni che ci danno i contenitori e non sempre ogni volta che devo fare qualcosa sparo un ciclo for o sparo dei cicli foranidati anche qua non è sbagliato ma mi dà una soluzione più macchinosa alla lunga più lenta e anche forse più rischiosa nel senso che poi è facile sbagliare avendo istruzioni più complicate poi ho trovato delle cose carine del tipo uno si legge la linea del file che chiaramente finisce col barrenne e poi facevano delle cose di questo genere questa forse è una confusione tra split e strip può essere le parole sono abbastanza simili facendo questo alla fine uno si ritrovava la lista che conteneva non le stringhe ma ogni stringa a sua volta era contenuta dentro un array una lista scusate che conteneva l'unica riga perché cosa fa questo split splitta questa riga in due parti la prima poi c'è separatore barrenne poi non c'è un secondo elemento quindi è una lista che contiene l'elemento solo allora questo genere è una struttura di questo genere che ovviamente ha un livello in più di quanto non ci serve quindi una serie di parentesi in più da andare a usare per indicizzare l'impressione mia è che chi fa questi errori magari si dovrebbe fermare un attimo mentre scrive il programma a provare a vedere in modalità debug oppure a stampare in modalità con delle print i dati che sta elaborando e se vede delle cose superflue o troppo macchinose cercare di semplificarsene ok quindi non è mai negativo fermarsi 30 secondi in più a vedere a capire cosa sta succedendo piuttosto che andare avanti sui passi successivi altri errori frequenti ho visto molto troppo spesso un'istruzione di questo genere che è sbagliata poi su questo esempio qui purtroppo non si notava perché Borbo e Arthur erano attaccati uno all'altro in due righe consecutive e quindi questo baco qua viene in qualche modo mascherato allora qual è il problema? il problema è che questa istruzione qua sopra ok viene letta così da Python è un or di due condizioni la prima condizione è strana perché Bob è una stringa non è un booleano e la seconda è Arthur in line cioè esiste la parola Arthur all'interno della riga che questa line fosse la stringa non divisa da parole oppure fosse la lista che conteneva le parole è uguale assolutamente il ragionamento è identico e anche la sintassi tra l'altro però cosa succede è che questa parentesi Bob è sempre vera cioè se io vado nella Python console e scrivo bool di Bob lui mi risponde true perché in un contesto booleano le stringhe vengono considerate come vere a meno che non sia la stringa vuota allora la stringa vuota dice che è falsa ok e quindi e qui stiamo scrivendo true or qualunque altra cosa ma true or qualunque altra cosa è sempre true no? e quindi qua poi uno faceva i salti mortali perché gli sembrava di voler cancellare tutto il file e invece non doveva no? quindi questo è un problema questo è sbagliato il modo giusto di scriverlo è questo ok Bob adesso aggiungendo le parentesi non necessarie però vedete che io faccio due controlli controllo se Bob è nella linea controllo se Arthur è nella linea e poi ho l'or di questi due a me basta che uno solo di due ci sia che io te lo devo poi cancellare quindi questa scrittura qua prima adesso con le parentesi è evidente che è sbagliato senza parentesi sembrava un po' diciamo così a prima vista poteva essere giusta ma in realtà ha ingannato molti di voi la cancellazione allora io ho detto prima non cancello ma ricreo non è una regola generale in questo esercizio mi veniva molto più comodo perché in due istruzioni ho risolto tutto però sembrava quasi dire ma io so già che Bob è in questa linea quindi boh cancelliamo subito questa linea allora se io lavoro con l'iterazione sul contenuto uso la remove per cancellare la riga che contiene questo elemento se lavoro con l'indice i invece farò la pop per cancellare l'elemento in posizione i ecco questa cosa qui non fatela ok non fatela ricordatevi la regola mai modificare la lista su cui si sta iterando che detta con altre parole mai tagliare il ramo su cui si sta seduti perché poi cadi e ti fai male ci sono sempre soluzioni migliori ho scritto qua nel senso perché non si può ma perché io ho una lista su cui sto iterando in qualche modo scusate ad esempio con i in range oppure con qui for line in testo a seconda di come sto iterando in un modo o nell'altro ok soprattutto se sto iterando con gli indici quando io elimino una riga di indice i l'avevamo visto all'inizio del corso quello che succede è che tutte le righe successive a questa tornano indietro in una posizione ok quindi io faccio il pop della riga 2 va bene questa riga viene cancellata ma quella che prima era la riga 3 diventa la riga 2 quella prima che era la riga 4 diventa la riga 3 quando il ciclo for va all'iterazione successiva i da 2 diventa 3 e quindi andrò a controllare se boh è nella riga 3 ma la riga 3 è la vecchia riga 4 e quello che è successo è che la vecchia riga 3 non l'ha guardata nessuno l'abbiamo saltata l'abbiamo eliminata non l'abbiamo considerata perché nel frattempo abbiamo rimescolato le carte ok quando io modifico una lista all'interno di un ciclo il resto del ciclo sta lavorando con degli indici la i non se ne accorge non lo sa lei va avanti secondo il suo range il range è stato definito all'inizio e il range è fatto così si incrementa ogni volta ma io gli sto rimescolando gli elementi di sotto quindi non mi devo stupire che poi alla fine ci sono degli elementi che ho saltato non ho visto e quindi questo è un problema non facile da risolvere non facile da risolvere bisognerebbe fare in modo che la i non si incrementi ma per evitare un incremento di una i in un ciclo for non si può dovrei fare un ciclo while e vado ad aggiungere istruzione perché mi gestisco l'indice a mano in un while eccetera quindi questo crea problemi peggio ancora chi cancellava dico ma ormai so che devo che i bob è sulla riga i allora cancello anche la riga successiva o due dopo e questo è ancora peggio perché sto andando a cancellare dopo che ho cancellato l'iesima cancello non lì più unesima lì più duesima perché nel frattempo non è saltata una o peggio ancora quando cercavo di fare dei pop degli elementi delle righe precedenti e quindi mi vado di fatto a eliminare la riga su cui sto lavorando non dico che sia impossibile dico che crea tutta una serie di casi particolari complicati da gestire per cui farlo giusto è molto complesso molti in qualche modo ci sono avvicinati ad esempio ci sono alcuni compiti in cui chi ha fatto questo ha fatto 5 volte pop di meno 2 ed è giusto in certo senso non è il senso che io mi posiziono due righe sopra e la cancello quella vuol dire che le 4 successive tornano indietro allora cancello la prima di queste la seconda la terza la quarta e quindi in qualche modo cancello non la i i più 1 i più 2 i meno 1 i meno 2 ma cancello i meno 2 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 in realtà ho cancellato quella che prima era i meno 1 quella che prima era la i quella che prima era la i più 1 e la i più 2 è un po' contorto può funzionare o me potrebbe funzionare se io fossi lo facessi una volta sola ma quando lo rifaccio la seconda volta lì è andata avanti di una posizione quegli lì non sono più gli stessi così come anche coloro che si salvavano gli indici da qualche parte e poi andavano a eliminare gli elementi il primo elemento che elimino è giusto il secondo che elimino dovrei tenere conto del fatto che gli indici si sono cambiati e posso tener conto si può fare ma è complicato perché ad esempio come in questo caso dove un arco e un bob io ho dei due serie di indici che in qualche modo si accavallano e quindi non so se con la riga non l'ho cancellata due volte l'ho cancellata una volta sola perché era in comune i due intervalli è molto complicato non è impossibile ma veramente molto complicato farlo giusto quindi cerchiamo veramente di rimanere sempre applicare sempre questa regola se sto iterando su una lista non cancello elementi non aggiungo elementi alcuni hanno trovato le soluzioni carine tipo mettere un secondo campo sulla riga quindi trasformandola in tupla o in un piccolo dizionario true o false devo cancellarla oppure non cancellarla allora va bene perché io modifico il singolo elemento ma non cancello o non aggiungo e quindi gli indici non cambiano oppure alcuni altri hanno cancellato il contenuto quindi a me so anziché fare remove di line hanno fatto qualcosa del tipo testo di uguale testo di uguale stringa vuota i e i meno 1 e più 1 eccetera benissimo questo andava bene quasi poi vi racconto perché no perché anche lì non mi sposta gli elementi nella lista però mi segna in qualche modo mi identifica che questa lista va quell'elemento quella riga scusate non va stampata dico attenzione attenzione a questa soluzione che sembra la migliore ma in questo esercizio ci può ingannare soprattutto se cancelliamo la riga su cui sono io le due prima e le due dopo che è quello che in realtà dobbiamo fare perché immaginate il nostro programma il nostro file di input è fatto in questo modo qualcosa poi qualcosa con Bob qualcosa con Arthur x y e z se io qua appena trovo Bob rimuovo quella riga le due precedenti e le due successive io appena trovo Bob rimuovo queste righe qua ok Bob quella precedente che è x due prima che non esiste quindi fa lo stesso quella dopo che contiene Arthur e quella dopo ancora la seconda dopo che contiene y va bene però se faccio questo non appena ho visto Bob quindi prima di aver processato le righe successive questo scompare la z la lascerei non la censurerei ma in realtà la dovrei censurare perché? ma perché la z è a distanza 2 da Arthur ma io Arthur l'ho cancellato prima di guardarlo ok questo è un altro dei motivi per cui io ho prima deciso cosa voglio cancellare questo è il mio codice e dopo agito sulla base di queste informazioni ok se abbiamo un contenuto che ci dice cosa fare e allo stesso tempo stiamo modificando questo contenuto beh se lo facciamo tutto insieme rischiamo effettivamente di come si dice inciamparci pestando i lacci delle nostre stesse scarpe no? perché tu fai una cosa mentre ne fai un'altra e poi cadi scusate la similitudine ok allora questo è il modo secondo me più semplice che alcuni di voi hanno fatto poi ci saranno altri 100 modi come al solito no? quindi possiamo ragionare ma questi errori qua erano diciamo così stati molto gettonati purtroppo ed erano diciamo così si prestavano essenzialmente in questo tipo di esercizio e bisognava fare attenzione vabbè fatto questo si trattava semplicemente di stampare il testo censurato su file ma visto che io il mio testo censurato l'ho tenuto sotto forma di lista di stringhe col barra n perché mi è arrivato se vi ricordate direttamente nel read line su un'istruzione sola per leggere il file beh io posso direttamente facciamolo anche nel main non muore nessuno aprire il file in scrittura che si doveva chiamare censurato.txt in scrittura encoding utf8 sf f.writelines di testo censurato e quindi con due istruzioni mi sono scritto il file d'uscita non devo fare un ciclo eccetera io ho già la lista ma che contiene già le stringhe terminate la barra n ricordiamoci che le write le write lines non aggiungono in fase di scrittura del file non aggiungono da solo gli a capo e quindi normalmente li dovrei aggiungere io io qua sono stato previdente non li ho tolti quindi non li devo più riaggiungere e vabbè questo normalmente magari non ci viene in mente se non come vi ho detto prima ci lavorate per 20 ore su un esercizio di questo genere se è così allora io quello che ho prima stampato a schermo facendo run mi va a finire anche nel file censurato.txt già nel formato giusto ok e questo togliamo questa print e non ci sono altre print in mezzo ok termina la prima parte dell'esercizio la seconda parte dell'esercizio invece mi chiedeva la distanza tra la parola polizia e la parola Bob oppure Arthur allora qui qui invece vi parlo prima degli errori e poi dopo facciamo la soluzione ok allora vabbè due errori semplici che però ho visto alcune volte alcuni scrivevano cose di questo genere ok allora if Bob in line or Arthur in line and polizia in line diciamo line che è la la lista oppure la stringa che contiene una determinata riga che sto analizzando allora qui l'idea sembra giusta nel senso che verifico se nella riga c'è o Bob o Arthur e anche contemporaneamente polizia ok il problema qual è è che or si comporta come una somma e and come una moltiplicazione nel senso che and ha la priorità maggiore e quindi questa riga qua viene interpretata come se fosse una parentesi qui che ovviamente non ha senso detta così vuol dire che io vedo se c'è Bob oppure c'è Arthur e polizia insieme ma Bob e polizia insieme non le vado mai a controllare no? quindi se c'è Bob e non polizia la considero comunque presente ovviamente se io volessi fare una cosa di questo genere avrei dovuto mettere beh come si è scritto sotto le parentesi intorno al lore per dire ok c'è il nome e c'è la polizia e se ci sono entrambi allora ci sono entrambi poi in realtà questa istruzione qua lo dico perché la scritta non serve a niente o meglio va a catturare un caso particolare in cui sulla stessa riga compare sia Bob che polizia oppure sia Arthur che polizia non era secondo me nella maggior parte dei casi necessario trattarlo come un caso particolare perché ricadeva normalmente nei casi normali ma questo era solamente un dettaglio ricordiamoci quando usiamo degli operatori che non usiamo tutti i giorni tipicamente l'operatore in l'operatore or eccetera un paio di parentesi in più non fanno mai male ok e poi però il vero problema di questa seconda parte del programma è che parecchi e quelli che hanno diciamo così hanno avuto una penalizzazione insomma su questa parte del programma hanno lavorato facendo delle ipotesi che in realtà nessuno gli ha detto che dovessero fare che potessero fare ad esempio molti programmi hanno considerato che la parola polizia ci potesse essere una sola volta all'interno del file ricordiamoci che dobbiamo fare dobbiamo trovare la distanza minima tra la riga che conteneva polizia e la riga che conteneva i nomi di Bob la parola polizia nessuno dice che compare o zero o una volta può comparire nel file e se compare sette volte io devo andare a calcolare la distanza minima di ciascuna di queste sette volte non solamente della prima o non solamente dell'ultima volta in cui compare ok molti hanno memorizzato la posizione della polizia solamente in una variabile intera e quindi potevano memorizzare solamente una posizione funziona sarebbe lecito se io fossi sicuro che nel file la parola polizia compare al più una sola volta ma questa ipotesi non c'è nel testo poi per carità vi abbiamo dato un esempio in cui compariva una volta sola ma chi ci dà il diritto di dire che sarà sempre così ok quindi questo è un errore qualcuno mi dice ma no ma in realtà l'output del programma è giusto no l'output del programma è giusto su questo input tu cambia l'input e vedi che l'output del tuo programma è sbagliato perché non tiene conto di alcune condizioni ok quindi il fatto che l'output venga giusto per un determinato input non vuol dire che l'algoritmo è corretto quindi ovviamente noi andiamo a guardare se l'algoritmo funziona in tutti i casi non se funziona solo in questo singolo caso l'altra ipotesi magari inconscia no che molti hanno fatto è quella di dare per scontato che polizia venisse dopo i nomi perché in questo file gli nomi sono all'inizio polizia è al fondo da qualche parte quella per l'ultima riga e allora i calcoli vengono sempre fatti facendo la sottrazione polizia meno nome oppure trovando i nomi poi con un contatore che contava le righe fino a quando non incontrava polizia eccetera eccetera quindi questo funzionava se polizia esiste una volta sola e se la comparsa di polizia viene dopo la comparsa dei nomi e chi l'ha detto di nuovo magari polizia è sulla prima riga e Bob è sull'ultima oppure polizia è al centro Bob è sulla prima riga e Arthur è sull'ultima oppure Bob compare sette volte e polizia compare cinque volte il programma deve funzionare sempre ok allora se vogliamo un caso particolare di questo che però si manifestava in modo diverso di questa assunzione errata era che molti anche lì su Bob e Arthur si memorizzavano solamente tipicamente l'ultima volta che li avevano visti e facciamo i calcoli solamente sull'ultima occorrenza di Bob o sull'ultima occorrenza di Arthur allora l'ultima occorrenza di Bob o Arthur in questo caso questa riga è quella giusta per calcolare distanza minima se e solo se polizia compare una sola volta e compare dopo altrimenti non è la riga giusta e quindi su queste assunzioni che vengono fatte partendo dall'esempio a volte sai scrivi qualche codice e poi lo giri per farlo funzionare su questo esempio qui ma nel pacioccare il codice a volte perdi un pochino forse di vista quello che era la richiesta specifica quello che era l'algoritmo da implementare ok quindi su questo fate molta attenzione perché anche se sembra giusto ok poi in realtà l'algoritmo è sbagliato e queste due ipotesi sono sbagliate allora rimuovendo le ipotesi errate cosa ci rimane beh ci rimane che Bob o Arthur trattiamoli indifferentemente possono comparire fino a n volte in più righe nel file non detto che siano le prime non detto che siano le ultime non lo sappiamo polizia può anche lei accadere m volte e quindi la combinazione delle due che si possono alternare in qualsiasi ordine chi prima chi dopo fa sì che per calcolare distanza minima tra una qualunque occorrenza di Bob Arthur e tra una qualunque occorrenza di polizia io mi devo calcolare n per m distanze tra tutte le occorrenze di Bob per realtà ci sono dei modi forse matematicamente più sopraffini per ridurre il numero di confronti da fare ma banalmente se io ne ho m e m e n elementi devo calcolare la distanza minima tra uno qualunque degli n elementi e uno qualunque degli m senza far troppe diciamo così disequazioni di fino vado a calcolarmi tutte le distanze n per m e poi trovo la minima quindi questo è ciò che devo fare se l'unico modo diciamo corretto di risolvere questa parte dell'esercizio è ipotizzare di avere un numero qualsiasi di nomi presenti un numero qualsiasi di polizie presenti e calcolare tutte le distanze le m per anni di distanza allora capito questo possiamo passare al codice e implementarlo implementiamo una funzione distanza polizia che riceve sempre il testo come argomento e restituirà la distanza minima ok quindi restituisce e calcola la distanza minima allora anche qua potrò fare due insiemi o due liste non so la prima calcolo gli indici usiamo una tattica simile a quella della funzione precedente visto che ci siamo trovati bene indici dei nomi che sia un set o una lista e gli indici delle di polizia un altro set quindi mi vado ad analizzare il mio testo for i virgola riga in enumerate di testo vado a vedere se bob scusate per virgolette in riga or arctor in riga in riga indici nomi add di faccio la stessa cosa di prima guardiate quello che ho fatto prima for in riga in enumerate if bob or arctor in riga allora aggiungo agli indici da cancellare in questo caso è un pochino più complicato perché non devo aggiungere solo la riga ma anche le sue vicine qua semplicemente invece mi aggiungo solamente la riga e la stessa cosa if polizia in riga allora indici polizia add i quindi alla fine di questo ciclo avrò due insiemi un insieme che contiene gli indici delle righe in cui compare il nome e un altro insieme che contiene gli indici delle righe in cui compare la parola polizia attenzione if non elif c'è gente che mi ha messo degli elif o degli es qua in mezzo questo as o elif mi rende cieco non mi lascia diciamo così identificare il caso che può capitare in cui bob e polizia compaiono esattamente sulla stessa riga cioè se compare bob non è detto che sulla stessa riga non compaia anche polizia ok questo non è detto non c'è stato scritto nella specifica dell'esercizio e quindi non possiamo ipotizzarlo ok quindi sono due controlli indipendenti uno sui nomi l'altro sui polizia e alla fine mi costruisco i due indici per vedere che cosa ho fatto mettiamo anche qui un bel printino di indici nomi virgola indipolizia e vediamo cosa abbiamo fatto cosa sta calcolando questa parte di programma ok allora si chiama distanza uguale distanza polizia di testo facciamo un run e vediamo che in questo caso ho costruito un insieme che contiene uno due uno due sono gli indici di riga che contengono i nomi la riga 1 è questa che contiene Arthur la riga 2 è questa che contiene Bob e secondo insieme 7 è l'indice di riga che contiene la parola polizia 0 1 2 3 4 5 6 7 è questa qua ho paura della polizia è scritto qua dietro che non si vede quindi io in questo caso ho due posti in cui compare il nome diciamo il nome in generale un posto in cui compare la polizia devo calcolare tutte le coppie possibili di distanze per trovare quale sia la minima ok allora io posso farlo in vari modi il modo più semplice è semplicemente farsi un bel doppio ciclo quindi calcolo la distanza uguale a un valore massimo lì devo mettere un valore pari al massimo che può assumere quindi posso mettere 100.000 oppure posso mettere che ne so la lunghezza del testo cioè la distanza tra due parole non potrà mai essere maggiore della lunghezza del testo maggiore o è maggiore o uguale non lo so senti per sicurezza metto un più 1 così non devo impazzire a pensare se può compare sulla prima riga e polizia sull'ultima o viceversa qual è il valore della distanza io metto un valore che sia sicuramente maggiore più 1 o più 100 se volete non importa l'importante è che sia maggiore del massimo valore che posso saltare fuori come distanza legittima e ho fatto questo vado a farmi le distanze quindi for diciamo così indice del nome in indici nomi e for qui ho due fornidati perché devo fare tutte le possibili combinazioni ip in indici polizia quindi qui estraggo i vari numeretti dei due insiemi e ogni volta vado a calcolare la distanza che è diciamo di uguale in meno ip però ho preso in valore assoluto chiaramente ok perché io non so se viene prima ricordiamoci non so se viene prima polizia o prima il nome e quindi devo prendere valore assoluto se lo dimentico è un errore perché sto ipotizzando di calcolare la distanza in un verso e non ho detto che sia in quel verso lì e a questo punto if d minore di distanza distanza uguale a d questo è la solità costrutto per calcolare un minimo e alla fine abbiamo dopo aver provato tutte queste n per m distanze ho il minimo e la posso sostituire qui manca ancora un dettaglio questa parte di codice funziona se se c'è effettivamente Bob e Arthur e se c'è effettivamente polizia altrimenti no ok altrimenti questi indici sarebbero vuoti e quindi questa distanza sarebbe sbagliato sarebbe il valore sbagliato perché non viene assegnato a nessuna distanza effettiva quindi prima di fare questo lavoro devo verificare se diciamo se siamo in pericolo per come dice per usare la terminologia del testo cioè il nome polizia è stato pronunciato nella stessa intercettazione che contiene Bob e Arthur nella stessa intercettazione non nella stessa riga ma questo l'avete colto praticamente tutti e quindi dovrò fare dunque se se per caso avessi i nomi add fosse un insieme vuoto quindi length di nomi add indici nomi uguale a 0 or length indici polizia uguale a 0 quindi se non è stato detto il mio nome o non è stata detta la polizia o nessuno dei due che non so return un codice particolare un null in modo che il main si possa accorgere che questo dato non è non è corretto ok non ha senso non c'è la distanza non è definita perché non ho gli elementi tra cui calcolare questa distanza allora fatto questo torno nel mio main ho questa distanza e quindi if distanza uguale a none dirò non sei in pericolo altrimenti dirò attenzione che com'è che dire la frase che devo stampare la parola polizia è stata pronunciata ok la parola polizia è stata pronunciata a distanza righe di distanza dal tuo nome quindi facendo questo run mi compare la fatidica frase la parola polizia è stata pronunciata a 5 righe di distanza dal tuo nome quindi il calcolo era abbastanza semplice però ripeto ancora una volta era necessario calcolare queste n per m distanze tra l'altro anche in modo relativamente semplice questo calcolo e non non usare altri algoritmi che funzionassero solamente nel caso in cui fosse verificata una di queste una o entrambi di queste due ipotesi che non erano affatto garantite dal testo d'esercizio direi che questo copre la maggior parte delle anomalie che ho riscontrato nella correzione dei compiti come vedete alla fine il programma non era particolarmente lungo in questo caso sono arrivati a 66 righe ma come vedete sono molti commenti a righe vuote quindi di sicuro una prima stesura un programma questo programma non sarebbe compatto così perché io vi ho presentato le soluzioni migliori dopo aver visto le vostre dopo averci ragionato su e questa è la forma probabilmente minima o più compatta o più semplificata a cui possiamo arrivare alla prima stesura sicuramente uno non azzecca tutte le scelte e quindi farà qualche giro un pochino più lungo ma sicuramente è possibile compatibile con il risultato l'importante uno non perdersi negli algoritmi e due non fare delle ipotesi che non sono verificate quindi evitiamo di manipolare in modo maldestro le strutture dati soprattutto le liste e sulla prima metà il problema era questo convincersi che è meglio non cancellare o modificare la struttura dati su cui stai iterando perché da lì poi non ne esci io credo che tra coloro che hanno cercato di fare questa operazione forse solo uno è riuscito a farla in modo corretto che funzionasse in tutti i casi però molti ci hanno provato e in qualche modo non si sono accorti ma io mi sono accorto che poi la fine dell'algoritmo in generale non funzionava quando dico non modificare intendo non aggiungere non cancellare righe o non scambiare di posto righe chiaramente si può modificare il contenuto ecco questa era una tattica che molti hanno usato e come vi ho accennato prima può funzionare e ha funzionato per molti ok però l'aggiunta alimentazione e scambio di posto di elementi evitatelo quindi cancellare è sempre una cosa pericolosa ricordiamoci sempre c'è un for testo sto iterando su testo allora testo per me è sacro non lo tocco non devo aggiungere non devo modificare e così via ogni volta anche qua sotto quando io sto iterando su indici nomi non ho avuto bisogno di farlo ma indici nomi qui dentro dentro questo for non la tocco più lo uso lo interrogo lo confronto ma non lo modifico non faccio add non faccio remove ok non è una legge non è vietato da python ma è sempre una cosa diciamo così difficile da gestire in modo corretto e quindi la prima metà il problema era questo la seconda metà il problema era trovare una soluzione che non era complicata ma tra l'altro devo dire che questa soluzione qua era più semplice di soluzioni invece che vi siete andati a trovare cercando di fare i calcoli delle distanze contando le righe di mezzo eccetera eccetera lavorando sulle due singole variabili con molti casi particolari essenzialmente quindi anche lì se riuscite come ho detto non sempre si riesce al primo colpo se riuscite a evitare di gestire tanti casi particolari se il codice comincia a complicarsi introdurre 27 variabili beh forse è tempo anche lì di fermarsi 30 secondi e provare a ripensare se ci viene in mente una soluzione un pochino più pulita mi auguro che questa chiacchierata questa retta insieme vi aiuti in qualche modo sia a capire gli errori che avete fatto magari quelli che non avete fatto e quindi essere felici e più consapevoli ovviamente se poi avete bisogno di approfondire maggiormente il vostro elaborato perché non vi ritrovate magari in alcuni dei ragionamenti che abbiamo fatto ovviamente lo possiamo vedere individualmente grazie di tutto e arrivederci nei prossimi giorni grazie a tutti